Siamo a Casa Micciola sulla spiaggetta che si è creata nel corso degli anni in maniera magica, se così possiamo dire, ai piedi del Piemonte della Misericordia. Teatro qualche giorno fa di una operazione bellissima da parte di un gruppo di volenterosi che sono riusciti finalmente a tirare fuori l'impossibile da quello che era acquattato, ma anche in bella mostra, non solo tra i rovi, ma anche qui sulla sabbia. Allora, Domenico di Plasticless, innanzitutto come è venuta fuori questa iniziativa? Sì, allora l'iniziativa di Plasticless è nata a giugno dell'anno scorso e abbiamo notato io e una mia amica che gli scogli di Ischia Ponte erano dominati dalla plastica, c'era di tutto. Allora ci siamo organizzati e un giorno abbiamo detto uniamoci, andiamo insieme e raccogliamo tutta la plastica possibile così da poterne rimuoverne per quanto potevamo. E da quel giorno poi che è nato proprio un insieme, un gruppo di ragazzi che settimana per settimana, ogni domenica si riunisce proprio con lo stesso scopo, quello di raccogliere la plastica, sia sulle spiagge sia per i boschi dell'isola. E tutto questo è testimoniato dalle loro pagine su Facebook ma anche su Youtube, con i filmati che proprio fanno notare quanta roba viene buttata via, e non è tra i rifiuti speciali ma proprio così disseminata nell'ambiente che poi sembra non essere il nostro ma invece è qualcosa che è di tutti. Angelo, cosa avete tirato fuori l'altro giorno da qui? Abbiamo tirato di tutto, io devo ringraziare questi ragazzi che li ho conosciuti da poco, è veramente una bella iniziativa e sono fiero di questi ragazzi perché li criticano sempre, dicono sempre che stanno al computer, sono fanno l'onio, non fanno niente, ma io ho visto un tanto entusiasmo in questi ragazzi e veramente è da alloggiare questi ragazzi. E in più bisognerebbe fare una cosa, una premessa, educare la gente, i cittadini, perché non si può buttare di tutto su questo lungomare, poi questo spazio è uno spreco, ridotto così uno spreco, si potrebbero fare tante iniziative, veramente per il popolo di Casamicciola, perché Casamicciola è arrivata alla frutta, diciamolo com'è. E di questo ne abbiamo più volte parlato, ma della serie ci vuole veramente un amore per la natura misurato, oltre confine per poter aderire ad iniziative del genere, e dal pollice verde, e non solo, ma anche per quanto riguarda la catena alimentare, Luciana Morgera quando ha sentito l'appello si è catapultata, ovviamente armata di bici, per venire a dare il suo apporto. Com'è stata questa giornata così a scavare, a tirare fuori di tutto, dalla sabbia, dai rovi? È stata impegnativa. Io ho scritto anche poi un post su Facebook la sera stessa sulla Borsa Verde, perché oltre a raccogliere, vabbè, ingombranti, anche cose incredibili come copertoni, vecchie ruote, vecchie boe, abbiamo trovato un sacco di giocattoli di plastica. E questa cosa mi ha fatto riflettere, perché tutte le mamme tengono molto all'alimentazione dei bambini, gli danno la soglioletta, il pesce fresco, e non sanno che regando giocattoli di plastica ai bambini, inevitabilmente questi finiscono in mare, finiscono nel ciclo dell'alimentazione dei pesci, e quindi questi frammenti di giocattoli finiscono nei tessuti della soglioletta, che poi finisce nel piatto del bambino a pranzo o a cena. E quindi bisogna riflettere anche su questo, sulle scelte degli acquisti che si fanno. È vero che noi raccogliamo la plastica, raccogliamo quanto inquina l'ambiente, però bisogna anche riflettere sugli acquisti, cosa fare a monte per evitare che poi si continui ad inquinare. Secondo le previsioni, che sono drammatiche, nel 2050, negli oceani e in mare, ci saranno di peso equivalente al doppio di quello che è la presenza degli organismi viventi, negli oceani, sto parlando di tutti gli organismi, dal plankton alle balene, quindi è terribile la previsione, per cui a monte non dobbiamo acquistare più oggetti di plastica. D'altronde i comuni oggi si stanno attrezzando in queste settimane per il discorso del plastic free, questa ordinanza che vieterà probabilmente l'uso dei soliti piatti, bicchieri o posate di plastica. Ma torniamo a Plasticless, lì dove avevamo iniziato. Allora, adesso quali sono le prossime iniziative? Le prossime iniziative sicuramente sono quelle di continuare con le nostre raccolte, settimana per settimana, di rifiuti e di plastica sulle spiagge, ma in futuro abbiamo anche altre ambizioni, come quelle di proporre l'installazione di alcuni distributori di acqua per evitare di portare sempre a presso bottiglie di plastica, perché limitando già dal nostro piccolo l'uso di bottiglie di plastica giorno per giorno, acquistando per esempio dei distributori da parte di scuole o da parte di edifici pubblici, possiamo fare in modo che ognuno giorno per giorno vada sotto il distributore e prenda la propria quantità necessaria di acqua e se la metta per esempio in una tannica, in una bottiglia, così da evitare che ogni giorno porti a presso questa bottiglia di plastica. Io chiuderei con il permesso anche degli altri amici, siccome sei il più giovane del gruppo, davanti alla telecamera, prima accennava lui, un appello agli isolani veramente a preservare il nostro ambiente e soprattutto il nostro mare. Sì, allora, noi proprio come giovani abbiamo compreso il problema che l'ambiente, abbiamo visto anche con il suo riscaldamento globale, se non agiamo in maniera corretta per preservarlo, chiaramente ci troveremo da qui a qualche anno in cui staremo proprio in una posizione che non è a noi vivibile. Abbiamo visto come i pesci continuamente, ora recentemente notizia di pochi giorni fa di una balena che è stata ritrovata con tantissima plastica nel suo intestino o di comunque tantissimi altri pesci che giorno per giorno muoiono proprio per colpa di queste microplastiche che si trovano appunto nel mare. Quindi vogliamo noi nel nostro piccolo come Plasticless unirci e raccogliere più plastica possibile che troviamo sia sulle spiagge sia negli oceani e chiunque comunque voglio dire si voglia unire e abbia i nostri stessi obiettivi. Abbiamo proprio una pagina Instagram dove poi ci possono contattare, questa qui è la pagina social, dove ci possono contattare per trovare i nostri contatti, così da unirci poi a un gruppo che abbiamo su WhatsApp e quindi partecipare proprio attivamente alle raccolte. Grazie a tutti.